E' un anno di transizione per la seconda squadra maschile del Papiro Volley Fiume Freddo che milita nel campionato di Serie D. La scomparsa dell'allenatore Sidoro Nicotra lo scorso 15 dicembre ha indiscutibilmente segnato la stagione. A raccogliere il testimone del compianto Nicotra, Antonio Leonardi, che sta lavorando per valorizzare i ragazzi e dare un'identità alla squadra. Non è stato per nulla facile ripartire dopo quello che è successo a Isidoro. Comunque insieme a Gino ci siamo messi in mente di portare avanti questo gruppo che fino al momento, fino ad ora, mi ha dato ampia disponibilità di tutto. Ci segue sempre con molta attenzione e il nostro progetto è quello comunque di farli crescere e questo lo porteremo fino alla fine del campionato. Dopo la sconfitta Casalinga con la PGS Tabaluce Messina, sconfitta che continua a relegare il Papiro B all'ultimo posto in classifica, adesso si pensa alla doppia sfida con Pace del Mela e Pedara. Quest'ultimo scontro per evitare la maglia nera. Sì, i ragazzi stanno crescendo, poi purtroppo fino adesso non abbiamo avuto la possibilità di mettere in campo mai un sestetto base, continuamente partita per partita si è sempre dovuto variare in formazioni, in ruoli. E quindi però a noi interessa principalmente la crescita individuale del singolo atleta e finora c'è stata. Quindi di questo non ci possiamo lamentare, hanno sempre lottato in ogni partita, non ci sono mai stati set persi male. Abbiamo lottato con le prime in classifica, con Messina in casa, con Vada Cereale e quindi da questo punto di vista non c'è stato mai un rilassamento. E questo sicuramente è frutto del lavoro fatto fino adesso.